ma sarebbe interessante Simon Kier con i capelli Alessandro Florenzi verso Simon Kier prova ad aprire tutto sulla sinistra verso Raffa recupera ancora Simon Kier Simon Kier su cui il Milan punta ampliamente non trovano riscontri è un giocatore che sta dimostrando di stare in Milan nel frattempo ha dato la palla ad Adli che per Pion Simon Kier, eccolo qui perché anche Simon Kier a partire 3 è arrivato dalle Avre nazionali a Kayoko che fa ancora parte del Milan il nostro campionato molte squadre andranno a raddoppiare le avre agli occhi di Igor Tudor ricordiamo che il Marsiglia un uomo in Tavares che questa volta però l'ha portata a spasso e arriva Simon Kier di Giada Giacalone e i suoi ospiti che oggi insomma non penso siano c'è da lui la fascia Florenzi in mezzo Kier siamo già nel recupero speranze meno che non sia Van Dijk insomma tra l'altro sarà il prossimo alle 19 in diretta in esclusiva su Sport Italia dove ci sarà anche Valentina Ballarini da bordo campo verso Simon Kier la fa girare sulla destra la volontà di aspettare di vedere questo giocatore con la maglia del Milan iniziare a